Benvenuti amici alla nostra rubrica settimanale di consigli per la lettura. Ti racconto un libro questa settimana vi propone il romanzo di Laura Valle, il mito dell'eterna giovinezza. Una storia attraverso la quale l'autrice si interroga e ci interroga a proposito di un argomento di particolare attualità e che in un modo e in un altro sta a cuore a ciascuno di noi. Fermare le lancette del nostro orologio personale e preservare il più a lungo possibile la giovinezza e la bellezza. La protagonista del romanzo è Samantha, una quarantenne sposata ad un uomo molto più grande di lei, che incontra un venticinquenne. Da questo incontro non nasce soltanto una storia di passione e di sentimento, ma inizia un percorso personale che porta la protagonista ad utilizzare tutte le tecniche più avanzate all'avanguardia proprio per fermare il suo orologio personale. Samantha ricorrerà alla chirurgia plastica e a tutte le innovazioni estetiche che possono preservare il più a lungo possibile la giovinezza. Laura Valle ci propone una storia scritta con uno stile fluido, coinvolgente, brillante e ci fa una domanda per la quale non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate. Chirurgia plastica sì, chirurgia plastica no. Innovazioni estetiche sì, innovazioni estetiche no. Tutto dipende anche dalla nostra serenità interiore e quindi noi come Samantha sceglieremo di far ricorso alla chirurgia plastica, sceglieremo di utilizzare le innovazioni estetiche per abbattere la clessidra e preservare il più a lungo possibile la nostra giovinezza oppure no? Il mito dell'eterna giovinezza di Laura Valle è il nostro consiglio di questa settimana. Io vi aspetto venerdì prossimo sempre su Onda TV Sul Mona e vi ricordo che i nostri consigli di lettura potrete trovarli anche in edicola sul settimanale Tutto.